Ciao a tutti, in questo video vedremo come funziona un generatore di funzioni, un laser, un galvanometro sia individualmente e soprattutto messi insieme cosa ci si può fare. Ovviamente non c'è la battuta come il titolo potrebbe far supporre. Allora cominciamo col generatore di funzioni. Il generatore di funzioni è un oggetto che risale all'elettronica analogica, oramai sono tutti digitali, questo è programmabile a due canali, essenzialmente genera una funzione matematica. Di solito sono sinusoidali, rampa squadrata e così via, questo appunto ha due canali, un tempo era a singolo canale e escono BNC con un canale coassiale in maniera da segnali puliti e schermati. Questo tipo di generatore di funzioni è professionale o comunque per laboratorio, quindi costa varie centinaia di euro, quindi se volete giocare vi consiglio di comprare un kit su Banggood, Alibaba o anche su Amazon si trovano. Questo della G-Cry costa 6 euro, 7 euro, ovviamente ve lo dovete montare, ma essenzialmente ha le stesse funzionalità di quelli più professionali, ovviamente semplificate, però vedete quelle base sono sinusoidale, dente di sega, onda quadra e così via e potete variare la frequenza. Questo è grande così, qualche centimetro per qualche centimetro e appunto ha tutto quello che questo qui più professionale ha. Questo qui appunto è a due canali, vedete c'è canale sinistro e canale destro, si seleziona l'output in uscita, in questo caso è collegato con la suona dell'oscilloscopio che è qui dietro, quando uno accende si vede la fonda sinusoidale che viene generata dal generatore di funzioni. Si può cambiare la frequenza, quindi direi su 200 Hz, ossia la sinusoidale varia 200 volte al secondo, 1 Hz è una oscillazione al secondo. Se si scende a 10 Hz ovviamente l'intervallo in cui può osservare l'oscilloscopio è limitato e quindi si vede solo una parte della funzione d'onda via via che sale, quindi bisogna salire in frequenza o cambiare la scala dell'oscilloscopio che appunto è qui dietro. Questo qui arriva anche a qualche MHz, quindi può far oscillare la sua sinusoidale di vari milioni di volte al secondo e quindi qui sembra quasi una fascia costante e ma in realtà così non è. Se andiamo a zoomare con l'oscilloscopio, vediamo un po' eccolo qua, vedete che se uno cambia la scala temporale a 2 microsecondi, quindi 2 milionesimi di secondo, si trova la stessa funzione appunto generata però con una frequenza molto più elevata. Si può anche cambiare l'ampiezza, vedete questa è la amplitude, in questo caso 1 volt picco picco, 500 mili volt picco picco, vuol dire che c'è 505 volt da parte a parte, 1 volt da parte a parte, questo c'è un range di 10 volt o 20 volt, non mi ricordo. Si può cambiare la forma, vedete questa è l'onda quadra e quindi essenzialmente si può cambiare anche il duty cycle, cioè il tempo, di quanto tempo sta su e quanto sta giù, dipende dall'applicazione che uno vuol fare. Questo ovviamente è tutto programmabile, addirittura questi sono USB, quindi in realtà si possono programmare dal PC e gli si può dare una qualunque forma, in realtà lui dentro c'è anche varie forme matematiche, adesso non vale la pena andare nei dettagli. Questo è semplicemente un singolo impulso sonar, come direbbe Marco Ramius di Caccio Troberosso, vedete un piccolo, un singolo impulso che si ripete. Qui va triggerato, quindi in realtà questa è la soglia in cui scatta l'oscilloscopio per avere una funzione visualizzata in maniera costante. E quindi questo è alla base del generatore di funzione. Che ci si fa con il generatore di funzione? Lo si può collegare a un galvanometro. Prima di far vedere il galvanometro vi faccio vedere il laser, che l'avevamo visto anche già l'altra volta nel video sulla diffrazione, che spara su luce rossa, in questo caso sui due specchi di cui costitui il galvanometro. Come vedremo uno muove nell'asse X e l'altro muove nell'asse Y. Infatti, questo è il Delator Labs, ma ce ne sono tantissime, è il Bunda Optics e così via, nessuno ovviamente purtroppo mi sponsorizza il video. Ma comunque se questa è la parte di alimentazione, serve un'alimentazione molto stabile e dall'alimentazione si va a due sistemi di movimento, X e Y. Vedete, sono due gemelli, uno è chiuso e l'altro è aperto per farvi vedere com'è fatto. Questo qui grigio è il cavo di alimentazione, appunto, che mette in piedi tutta la baracca. Questo è il segnale che viene dal generatore di funzioni. Infatti, vedete, ci sono due segnali, perché questo è duale, uno per controllare il canale X e l'altro che va all'altro canale per controllare il canale Y. E da lì si va col cavo nero al vero galvanometro, ossia all'oggetto con il motorino che muove i due specchi. Quindi i due specchi, perché appunto il laser viene da destra nell'immagine, colpisce il primo specchio che lo ruota lungo l'asse delle X o Y, in questo caso chiamiamo l'asse X. Viene fatto rimbalzare verso il secondo specchio, anche questo che ruota a 45 gradi in posizione di riposo, ma appunto ruota lungo l'asse delle Y, e poi se ne va verso lo schermo o il muro, come nel caso nostro. Vediamolo in movimento, abbiamo spento la luce per far vedere meglio il comportamento dei due specchi, vediamo quando viene acceso, vedete questa è la luce dell'asse che colpisce il primo specchio, poi se ne va sul secondo e poi se ne va verso il muro. Dato che l'asse non è come nei film di guerra stellare e così via, non si vede il raggio laser, dovrei metterci il fumo, poi scatterebbe l'allarma, insomma ci si può provare un'altra volta, ma non adesso. Ecco qui, se il movimento degli specchi è abbastanza lento, lo si riesce ad apprezzare anche con la telecamera dello smartphone e vedete i due movimenti in X e Y come vengono generati dal generatore di funzione. Ora, se nessuno dei due canali del generatore di funzione dà un segnale al galvanometro, questo si comporta come due specchi fissi a 45 gradi e deflette semplicemente il raggio laser sul muro e non succede nulla. Se ne attiviamo solo uno, vediamo che questo qui da punto luminoso passa ad essere una retta, in questo caso sull'asse delle X. Se ne attivo due alla stessa frequenza in fase, si muove contemporaneamente lungo l'asse delle X e delle Y e ho una diagonale, perché sono appunto stessa intensità in voltaggio, stessa fase e quindi sono esattamente una diagonale, una bisettrice, sarebbe il primo e il terzo in realtà qui è il secondo e il quarto quadrante perché è speculare. Se cambio la fase, vedete che comincia ad avere un ellisse, 10 gradi di sfasamento, 20 gradi di sfasamento perché 30 gradi, perché i due segnali sono in controfase, sono sfasati uno rispetto all'altro e quindi dove sta la X e la Y stanno in punte differenti. Via via che aumentano lo sfasamento, mi avvicino sempre di più al cerchio che ho quando ho 90 gradi. Quindi nel caso di 90 gradi ho il cerchio di Giotto riprodotto dall'asse, perché ovviamente l'asse delle X è il coseno, sull'asse delle Y c'è il seno, in realtà il coseno sta solo in 90 gradi, che altro non è che appunto il seno e quindi ho esattamente la mia circonferenza. Se nello stesso segnale, invece di un segnale sinusoidale, metto l'onda quadra, ossia quella che avevamo visto prima, cioè positivo, negativo, squadrato, senza sinusoid, vedete che ho questo comportamento qua, in cui su un'asse ho la sinusoid e sull'altro ho l'onda quadra. Se sono due onde quadre ho un quadrato vero e proprio, perché di nuovo sono sfasati di 90 gradi, quindi essenzialmente per la stessa frequenza, questa è importante, percorrono esattamente lo stesso percorso e si ripete. Se aumento l'intensità di uno rispetto all'altro mi ritrovo con un rettangolo sempre più oblungo e se di nuovo rimetto il seno mi ritrovo con questa forma qui, che è un sinusoidale con un'onda quadra. Se una delle due frequenze è il doppio di quell'altra, vedete di nuovo una specie di 8, perché lungo l'asse delle x riesco a fare una oscillazione, mentre sull'asse delle y ne riesco a fare due. E quindi il mio pannello luminoso fa due oscillazioni in un verso e un'oscillazione nell'altro, di nuovo se sono esattamente una il doppio dell'altra. Se faccio il contrario, in questo caso è sull'asse delle y che compie una oscillazione e ne compie due sull'asse delle x. Posso aumentare di più la frequenza, in questo caso più battimenti lungo l'asse delle y rispetto a quello dell'asse delle x. Se i due segnali non sono perfettamente uno multiplo dell'altro, ma c'è per esempio uno o due hertz in più di uno rispetto all'altro, vedete che la struttura cambia forma in funzione del tempo. Ecco qua, qui per esempio c'è uno sfasamento in più di un hertz oltre al multiplo e quindi sembra quasi una struttura tridimensionale proiettata. In realtà è appunto solo un effetto del battimento tra le due sinusoidie. Via via che aumentano lo sfasamento, le due sinusoidie si muovono sempre più velocemente una rispetto all'altra, ma di nuovo è un effetto ottico. Via via che aumentano di più la frequenza di una rispetto all'altra, si forma quello che è il cosiddetto pattern dell'Issageux, dal nome del matematico francese che per primo studiò, in realtà ci fu un altro prima che lo studiò, ma essenzialmente c'è questa struttura molto complessa. Dopodiché che ci faccio col galvanometro, ossia quali sono le applicazioni commerciali che possiamo conoscere in cui vengono usati i galvanometri? Quelle più recenti sono questi dei televisori laser, ossia degli oggetti molto compatti, anche abbastanza costosi, parliamo di svariate migliaia di euro, in cui c'è forse uno, forse tre galvanometri, magari uno per il laser RGB, ma comunque ci sono tre pennelli laser, punto RGB o anche colon intermedi, che si possono mettere molto vicino alla parete e appunto in virtù del fatto che è un raggio laser che dipinge la nostra immagine sullo schermo, non c'è bisogno di metterli a vari metri di distanza come per i vecchi proiettori con l'ottica classica, quindi queste qui sono, questo è lo Xeomi, ma ce ne sono tantissime anche in risoluzione 4K, però appunto bisogna comunque avere una parete completamente sgombra e se sgombra si possono avere riflessioni, ma insomma quello è il problema degli schermi piatti. E qui c'è Robin Hood con un proiettore messo appunto molto vicino alla parete con immagini molto molto grandi. Ovviamente questi sono ancora, sta diventando più luminosi, ma insomma in realtà sono anche abbastanza scuri rispetto ai televisori LCD OLED addirittura, per cui poi vanno visti al buio, quindi comunque hanno delle caratteristiche che possono essere migliorate col tempo. Comunque se avete i soldi e il tempo sono consigliati. E questo direi che è tutto per i galvanometri, ci vedremo la prossima volta. Ciao! Grazie a tutti!